Conoscere Gesù è un dono del Padre. E' Lui che ci fa conoscere Gesù. E' un lavoro dello Spirito Santo, che è un grande lavoratore. Non è un sindicalista, è un grande lavoratore. E lavora in noi, sempre. Fa questo lavoro di spiegare il mistero di Gesù e di darci questo senso di Cristo. Guardiamo Gesù, Pietro, gli Apostoli e sentiamo nel nostro cuore questa domanda. Chi sono io per te? E come discepoli, chiediamo al Padre ci dia la conoscenza di Cristo e allo Spirito Santo ci spieghe questo mistero.